Si è sentita notevolmente la sua presenza a centrocampo Emerson, va alla conclusione, calo rosso, gol di Emerson, capolavoro strepitoso, Emerson, terzo minuto della ripresa, dalla distanza Emerson, parte inferiore della traversa e gol, Lazio 0, Roma 2, Emerson. È un gol veramente straordinario, bellissimo, la distanza era notevolissima, lui ha tirato una bordata delle sue, guarda come guarda subito la porta, Livarani chiama a sostegno un proprio compagno, il tiro è violentissimo, imparabile, perché guarda dove è andato a finire, sotto la traversa è in rete. Emerson è corso ad abbracciare il grande amico Lima. Però questo effettivamente è impossibile da prendere anche perché era proprio sotto la traversa. Gol straordinario di Emerson.